Damiano Pippi, capitano della RPA LuigiBacchi.it Perugia, una stagione che sta per cominciare, quali sono le sensazioni, gli obiettivi di questo anno che si preannuncia interessante, quanto mai? Le sensazioni sono buone, anche se siamo ancora veramente da poco tutti insieme, praticamente ieri ed oggi abbiamo fatto i primi allenamenti al completo, però c'è un'ottima armonia all'interno del gruppo, le potenzialità siamo consapevoli che sono veramente interessanti. Puntiamo magari a cercare di ripetere la regular season dell'anno scorso, che è stata la migliore della storia di Perugia, però cercare di raccogliere delle soddisfazioni a livello europeo, perché per la seconda volta nella storia di Perugia si partecipa a una Coppa Europea, quindi sarebbe veramente molto entusiasmante riuscire ad arrivare in fondo alla Coppa Europea. È ancora presto per dirlo, ma quali sono i punti di forza di questa nuova Perugia? Hai detto bene, è presto dirlo, io credo che quest'anno la squadra sia molto equilibrata, non ha particolari punti deboli, non credo che abbia neanche, come potrebbe essere l'anno scorso, nella ricezione un punto di forza assoluto, però secondo me quest'anno è più equilibrata, siamo migliorati a muro, quindi secondo me è una squadra che darà fastidio a tutti quanti.